Hai dato loro il pane di scenso dal cielo, che porta in sé ogni dolcezza. Prendiamo, Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento della Eucaristia ci ha lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, e a sentire sempre in noi i benefici della redenzione, perché vive a vegli dei secoli dei secoli. Amén. Che scendiamo la benedizione del Signore attraverso il suo corpo e Eucaristico. Scenda la benedizione del Signore su tutta l'intera la città di Isola, sulla nostra Diocesi, soprattutto sulle famiglie provate dalla malattia, dalla povertà o dalla sofferenza. A presto! Grazie a tutti.